La questione Stadio Tomaselli tiene sempre banco. La domanda adesso che chiedono i cittadini e gli addetti ai lavori è quando riaprirà lo stadio. Il progetto prevedeva un intervento per la realizzazione di un imbiando sportivo polivalente, nel particolare il rifacimento del fondo campo in mando di erba artificiale, finalizzato al miglioramento dell'imbiando sportivo per la pratica sportiva di calcio e rugby. La DLF Nista Rugby non si è iscritta al campionato e la Nissa continua a giocare le sue partite casalinga al Palmindelli. Nel frattempo, oltre a mozioni consigliari, anche i cittadini aspettano notizie in merito sull'apertura dello stadio. Ieri si è aggiunta la nota di Salvatore Parla, presidente del Comitato regionale FIPE Sicilia, dove ha espresso tutta la sua solidarietà alla DLF Nista Rugby che per la questione Stadio sono stati costretti a rinunciare al campionato maschile di Serie C regionale. Nella sua nota, il presidente FIPE, oltre alla solidarietà nei confronti della Nista Rugby, dichiara che la problematica di essere definiti sport minori, nonostante i risultati raggiunti e le iniziative come adottiamo il Tomaselli, quando entrambi abbiamo provveduto solo con i nostri lavori a ripulire la struttura e renderla vivibile, non venga presa in considerazione. Conclude Parla che non giudichiamo e addossiamo responsabilità a nessuno, però questa vicenda del Tomaselli, senza che l'amministrazione intervenga in maniera efficace e risolutiva, lascia davvero perplessi.